ciao a tutti i ragazzi da studio camurrina bene volevo immortalare questo mini video per fare gli auguri a camurrina diario o diario camurrina oggi compie due anni sono successe tante cose da quel giorno fino a oggi dove ho cercato di documentare i passi dell'arte post contemporanea buona visione per tutti i video ragazzi ciao